Comprare se devi vendere? Ecco a cosa fare attenzione. Ciao, sono Ernesto Palano, consulente immobiliare. Se vuoi leggere qualche articolo o vedere qualche video che riguarda il mondo immobiliare, visita il mio sito oppure iscriviti al mio canale. Il 50% delle volte che una persona vuole comprare casa, ne ha una da vendere. E la domanda che si fa è, adesso, come mi muovo, si possono nascondere molte insidie in questo percorso. E in questo breve video voglio aiutarti con qualche utile consiglio. Consiglio numero 1. Non muoverti nell'acquisto se non sai a quanto vendi. Parliamoci chiaro. Cosa compri se non sai a quanto vendi la tua casa? Vai a vedere case da 200.000 euro oppure da 100.000 euro? Fai 150.000 euro di mutuo oppure ne fai 100.000? Tutte queste differenze non mi sembrano una cosa da poco. Cosa ne pensi? Fatevi fare una valutazione reale e professionale della vostra casa prima di mettervi alla ricerca del nuovo immobile. Se poi decidi di mettere in venta prima di cercare la nuova casa, non sarebbe male. Ma qui lascio a voi l'ardo da decisione. Consiglio numero 2. Se decidi di comprare prima di vendere, devi avere un piano B. Di vendere prima non ne vuoi sapere. Mica vorrai finire sotto i ponti. E se poi vendi e non trovi? Hai ragione. Se questa è la tua più grande paura, muoviti come preferisci. Ma ricordati una cosa importante. Se non sai a quanto vendi, non contare su casa tua per il nuovo acquisto. Cerco di essere chiaro con un semplicissimo esempio. Mettiamo che vedi una casa da 200.000 euro, che è proprio la casa che stavi cercando. E sai, perché hai fatto già valutare il tuo immobile, che casa tua si può vendere all'incirca a 100.000 euro. Quindi la differenza tra quanto acquisterai e quanto venderai è di circa 100.000 euro. Se non hai altri tuoi soldi, interverrà un mutuo di 100.000 euro per il nuovo acquisto. Qual è il consiglio? Quando ti avvicinerai alla possibilità di fare un'offerta per questa casa, metti in conto che casa tua la venderai non a 100.000 euro come pensavi o come ti era stata valutata, ma che la venderai a 70.000 euro. Quindi dovrai essere pronto ad aggiungere questi 30.000 euro di differenza che non ti aspettavi. Il problema nasce se non sai dove trovarli. E quindi, per fortuna che hai visto questo video e ti sei fermato prima. Consiglio numero 3. Fai sempre una consulenza mutuo prima di metterti alla ricerca della tua nuova casa. Questo è l'ultimo consiglio, ma non quello meno importante. Sai davvero quanto puoi avere di mutuo? A parte quello che ti ha detto il tuo amico che ha appena comprato casa, oppure tuo cugino, quello con lo 5G. Sei mai stato in banca o da un broker creditizio per una consulenza mutuo? Non puoi pensare di muoverti nella ricerca di una casa senza sapere a quale credito potrei accedere per il futuro acquisto. Immagina di dedicare ore ed ore su internet o per visitare immobili e poi, trovata, accorgerti che non puoi acquistarla. Non è una bella cosa e ti garantisco che è una delle più grandi delusioni che potresti avere. Questi tre semplici consigli hanno aiutato i miei clienti che, prima di voler mettere in vendita, hanno deciso di acquistare il loro nuovo immobile. In fondo, io credo che un bravo consulente immobiliare serva proprio a questo. A comprare e vendere casa in totale serenità. A comprare e vendere casa in totale serenità.